La nuova Scenic è dotata di una chiave con telecomando con un inserto pieghevole, della carta Renault con telecomando o di una carta Renault con funzione accesso facilitato. Con la carta Renault con funzione accesso facilitato avvicinatevi alla nuova Scenic. Si accendono sia le luci esterne sia quelle interne. Quando vi allontanate il portellone e le porte si chiudono automaticamente. La funzione di illuminazione a distanza della carta Renault con funzione di accesso facilitato vi aiuta a trovare facilmente il veicolo. Con la carta Renault con funzione accesso facilitato potete sbloccare solo il portellone oppure chiudere gli alzavetri elettrici. Grazie. 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 Grazie.